Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora parliamo naturalmente della sesta giornata, ma parliamo anche del bilancio dell'Inter e poi una cosa che mi sta a cuore, tra l'altro con una grande tifosa interista, ve lo preannuncio, grande professionista Francesca schiavone, tennista, ex-tennista che conoscete tutti, perché insomma io su sta cosa che l'atleta deve ritrovare le motivazioni ho voluto sentire anche lei, proprio perché secondo me quelli del calcio non è che dicano sempre la verità su queste cose e quindi mi riferisco ancora al derby giocato a scartamento ridotto dall'interno. Beh, allora per quanto riguarda la sesta giornata si è aperta nel modo più scontato, meno di un tempo, finale di primo tempo per avere ragione del Lecce da parte del Milan, Morata che ha insistito per giocare ma poi mi sa che si è rifermato di nuovo e poi Teo Hernandez e Pulisic, Pulisic l'ho sempre dichiarato acquisto veramente veramente azzeccato da parte del Milan ma l'avevamo visto anche negli anni precedenti e continua devo dire a giocare alla grande, però era una vittoria larga abbastanza scontata, adesso in questa apertura della sesta giornata il Milan è in vetta col Torino, però francamente ragazzi era abbastanza scontata la vittoria sul Lecce, quello che non era scontato certamente è per come era partito il Milan vederlo adesso primo in classifica, però questo è un bene tutto sommato per tutti perché ci dimostra che è un campionato strano con una classifica molto corta, però è anche la storia di come una partita giocata bene dai rossoneri come il derby può cambiare la vita. Adesso naturalmente devono giocare tutti gli altri, c'è il Napoli col Monza, partita secondo me altrettanto facile, io parlo sulla carta, non è nemmeno così difficile dopo la decisione per quelle follie che sono successe nel derby di Coppa Italia a Genova, non è nemmeno impossibile la vittoria per la Juventus dopo 3-0-0 a Marassi e l'Inter e l'Inter invece, beh Udinese-Inter e non a caso titolo in copertina, l'Udinese deve essere nella testa dei giocatori più prestigiosa veramente del City, perché se qui è una questione mi impegno quando c'è un avversario e invece ritengo con l'altro avversario che ho già battuto sei volte di poter fare quello che mi pare, e beh no, non ci siamo. E quindi mi aspetto una grande prestazione, me la devono cancellare veramente, la partita nel derby non basterà la partita con l'Udinese. Poi adesso torna di nuovo la Champions, infatti dobbiamo vedere se il Milan è davvero guarito perché poi ha le vertuse, non è facile, e l'Inter deve assolutamente vincere a Udine. Si gioca alle 15 che non accadeva da due anni, forse l'ultima volta era stata l'ultima giornata quando si era vinto lo scudetto con Conte proprio contro l'Udinese, a San Siro, all'ultima, successo largo, giocò anche Pinamonti qualche minuto, però potrei sbagliarmi ragazzi. Invece vi volevo parlare un attimo del discorso bilancio, perché mi sono messo col bilancio, che è qua, in copertina, e sapete che noi per anni abbiamo avuto a che fare, voi più che altro perché vi ascoltate, con la barbetta, l'occhialino, e che si professano social premi Nobel dell'economia e manco hanno letto il bilancio probabilmente, come dico sempre, del loro condominio, hanno titoli l'Inter, il fallimento, il ignoramento, i libri in tribunale, tutto questo è c'è ignorante, no? E non ha neanche gli strumenti culturali poi per parlare di questo, infatti, siccome non li ho nemmeno io, mi rivolgo naturalmente a chi fa di professione del commercializzatore, visore dei conti. Però ragazzi, per farvela breve, il fatturato dell'Inter oggi è a 473 milioni, il rosso è sceso da 85 a 36, OCTRI ha infilato dentro 47 milioni, questo è un progetto di bilancio che chiuderà l'anno fiscale 23-24 a meno 36, l'approvazione verrà a fine ottobre dalla assemblea degli azionisti, ecco, a che cosa è dovuto questo? Sapete quelli che vi dicono lo scudetto del bilancio? Sapete perché l'Inter è riuscita praticamente ad essere in break even? Adesso vi spiego perché è in break even. I risultati dell'area sportiva, i risultati in campo alla fine fanno alzare il fatturato perché aumentano gli sponsor. Pensate che dopo la grande inculata, perché non mi viene un'altra parola, presa da Digital Beats, oggi la maglia dell'Inter tra questo gate, io ho sulla maglia il cosiddetto sleeve sponsor, una criptovaluta che sono sempre pericolose, ma comunque tra la Nike che ha stipulato un contratto pluriennale da top club europeo e naturalmente Batson davanti e vari sponsor anche sul cosiddetto trading key, oggi la maglia dell'Inter incassa 75 milioni all'anno. Fate voi. E di mezzo perché si è arrivati a questa cifra? Perché c'è stata una finale di Champions League, ci sono stati due scudetti in quattro anni, ci sono stati sette profei in tre anni, quindi è comprovato, lo dico dall'altra parte del naviglio, ma qui hanno ragione i tifosi del Milan, quando cardinale, ma ai tifosi interessa solo vincere, a noi interessa far soldi, ecco, dovrebbe capire cardinale che la dimostrazione di questo che migliora, o proprio se fai i risultati in campo, perché se fai i risultati in campo anche in ambito europeo, ma anche in ambito italiano devo dire, i soldi ti arrivano, questa è la dimostrazione, entra in break even, perché ci tengo a dirlo bene, perché non essendo un commercialista, meno 36 praticamente vuol dire che sono gli interessi annuali per il bono che è in scadenza nel febbraio 2027, quindi oggi come oggi, questa è la parte di la rata annuale di interessi, quindi dall'anno prossimo praticamente l'intra in attivo, è ovvio che adesso qualcuno vincerà, finalmente ci sono i soldi, allora spegna, no, la sostenibilità resta sempre ovviamente la stella cometa, ahimè, a proposito di stelle, no, di stelle, quindi non aspettiamoci che adesso, non è questione di zango o tri, si compri un giocatore a 100 milioni, però insomma questa cosa del bilancio è molto bella, è molto bella, sbattuta in faccia, ovviamente a questi, non so neanche come definire, sono talmente ignoranti, li vedete dovunque, no, parlate del bilancio dell'Inter, e l'Inter fallisce, diventa un lato, nel contempo devo dire che la Juventus ha presentato un bilancio dove perde 200 milioni, ma fa niente, è finita anche la pacchia con Jeep, adesso la maniera della Juventus prende con 6 decideri che vedo 4 milioni, ma questi sono problemi loro, però tornando a noi, tornando, io continuo a pensare che il di non è stato giocato perché si è ritenuto che bastasse andare al 50-60% per vincere, i cacciatori mi dicono, no, non è vero, non è vero, noi ci siamo impegnati, io mi rifiuto di crederlo, ne avremo la prova domani a Udine, però siccome non mi fido i cacciatori, ma lo dico anche a Francesca Schiavone che ha intervistato, tra l'altro suo papà, mi guarda sempre in tv, quindi do un bacio a lei, grande intervista, e naturalmente saluto il papà, ho chiesto proprio a Francesca, senti tu che sei una furetta, ma quando magari iniziavi il torneo, battevi quella, e dopo la riaffrontavi, non ti vieni un po' da dire dentro di te, questa c'ho già vinto, anche se non muoio la ribatto, un po' quello che è successo all'Inter con i sette trofei, Francesca Schiavone, sentiamo il punto di vista di una furetta, la pancia piena, le motivazioni, sentiamo. Francesca Schiavone è interista, ma prima che essere interista, dopo sto derby ho capito, infatti va bene, è andata come è andata, è stata una grande atleta, è un atleta vive da atleta, siccome quelli del calcio secondo me non sono molto sinceri, voi siete più sinceri, quando vinci, io voglio capire questa cosa, quando vinci nell'animo scende un po' la fame per quello che noi diciamo, noi cronisti diciamo è più difficile vincere? Ma dipende dalle ambizioni, perché i grandi campioni finiscono un torneo, vincono uno scudetto, una Champions, dopo X giorni riprendono da capo, migliorano dell'X% e di nuovo fanno prestazione, soprattutto noi nello sport singolo è così, non puoi fermarti, è una continua evoluzione. Ma riuscite poi a resettare o inconsapevolmente ti viene da dire beh ma ho già vinto, secondo me anche se non sono, se non muoio posso rivincere? No dipende, ripeto, dalle ambizioni, da quello che vuole la società, da quello che vuoi dentro te stesso, sicuramente il cuore è ricco di gioia, quindi devi svuotarlo, ci vuole un pochino di tempo per poi riprendere e raggiungere il nuovo obiettivo, perché tanto è una questione di obiettivi, dove voglio arrivare, come ci arrivo, quello dipende tutto dalla squadra o dal soggetto e sono arrabbiata. Molto? E' un pochino, no, mi dispiace, vedere una squadra che... Però uno ogni sette, dai, cioè qualcuno ha detto vabbè adesso però mente fredda se si perde un derby ogni sette, però dà fastidio questo qua, perché secondo me non ci sei stato in campo. Esatto, questa è la cosa peggiore, ma da fans per carità non voglio giudicare, perché l'Inter... Parere mio è la squadra più forte oggi che c'è in Italia, dopodiché puoi vincere o puoi perdere, come succede anche al tennista, però il nostro obiettivo deve essere grande e quindi tenere i cuori che battono per andare a vincere. Possiamo vincerlo, abbiamo le capacità, abbiamo la squadra, poi una cosa è dirlo e una cosa è farlo assolutamente, la pressione la senti, è la cosa più bella, ognuno di noi si allena per vincere, per andare over e pensa se lo facciamo ancora, che straordinaria cosa. Senti da fan, ma la Champions non è, io la penso così, non è un po' un trappolone, tu rischi di mettere tutte le energie lì dove ci sono dei mamma santissima, tu sai che ci sono poi per carità la palla è rotona e poi ci smeni il campionato un po', cioè come si distingue anche lì nella testa l'atleta cosa deve fare? Allora, non parlo da giocatore di calcio perché non sono, non ho quel genere di esperienza, per quanto riguarda il tennis, noi ogni settimana c'è prestazione di altissimo livello, quindi per noi è normale avere una competizione dietro l'altra, ovviamente a cicli, per loro mi rendo conto che fare la Champions, fare l'Europa, poi la Coppa Europa, poi devi fare lo scudetto e poi hai la nazionale, c'è tanta richiesta, forse un pochino troppa perché se loro lo mettono in evidenza ovviamente l'atleta bisogna ascoltarlo, nello stesso tempo bisogna pedalare forte e essere sempre pronti, poi si selezionano le gare. L'ultima domanda la faccio proprio alla fan, sei fiduciosa che ci sia il bis? Sono fiduciosa perché mi piace la squadra, mi piace com'è gestita e possiamo farcela, da qui a fare sono due cose diverse ma ci credo, come sportiva come faccio a non crederci. Grazie Francesco, ciao a tutti, bocca al lupo. Speriamo, viva l'Inter, viva l'Inter, sempre. Sì, purtroppo sì, è la nostra croce ma sì. Ma anche delizia dai, negli ultimi anni che delizia è stata. È così. Io ringrazio Francesca Schiavone che parla da tennista, attenzione, sport individuale, però secondo me ci sono delle cose in comune. Io continuo a pensare che il derby non sia stato giocato qui, la vecchiaia, i cambi, la stanchezza, la preparazione che è cambiata, balle che vengono dopo, secondo me, perché se cominci ad andare in campo senza timare l'avversario perché l'hai battuto sei volte e pensi che ti basti fischiettare in campo per ribatterlo, è lì che hai perso e gli altri hanno vinto meritatamente, la risposta ce l'abbiamo a Udine. A Udine alle 15, naturalmente Udinese Inter, ve la racconterò in tv e auguriamoci insomma che il derby sia rimasto soltanto una brutta, brutta parentesi. Ciao a tutti.